L'esperienza qui al Centro Asteria è stata a dir poco bellissima perché mi sono trovata bene con tutte le persone dello staff, è una vera e propria famiglia. Vengo qui anche a fare l'animatrice d'estate, quindi l'esperienza che ho avuto da piccola cerco di trasmetterla anche ai bambini. Poi aiuto anche il maestro qualche volta con i bambini, quindi insomma è molto bella. Sono un ragazzo che viene al Centro Asteria, anche alla scuola Cocchetti. Le strutture sono molto belle ma soprattutto diciamo l'aspetto educativo, oltre ad allenare ad esempio per basket nel mio caso, si allena anche il punto di vista umanistico e quindi è per questo direi che è un centro unico e diverso dagli altri. Sono l'istruttore di Quanchido del Centro Asteria e noi siamo qua all'Asteria da ormai vent'anni, infatti il gruppo è cresciuto negli anni e io sono cresciuto quel gruppo e ora faccio io lezione. Mi ha servito molto come cammino personale. Per me fare danza è impegno e coraggio e stare insieme ad altri. Per me danza significa amicizia. A me la danza ho fatto tanti anni qua al Centro Asteria, mi è piaciuto, la maestra è simpatica e brava. La maestra a me è simpatica, però poche volte sia rapida. Mi piace scatenarmi e voglio essere la più ammirata. La danza dà vita al corpo, alle emozioni, è un movimento per scatenarsi o per anche stare con le amiche che mi sono creata e questa è una cosa bellissima che il Centro Asteria secondo me è anche un punto di forza per l'amicizia e non solo per persone con un cuore che danno molte opportunità a tutti i ragazzi e ragazze che vengono qui a fare un'attività. Io frequento il Centro Asteria più o meno dalla seconda media, balliamo insieme ormai da tanti anni, si è formato un bellissimo gruppo. Con la mia insegnante inoltre faccio lezioni con le bambine più piccole per mantenere la mia passione con la ginnastica ritmica. Ho frequentato scuola a cocchetti dalla materna, ho fatto le elementari, le medie. Il Centro Asteria posso dire che è un'organizzazione penso tra le migliori che abbia mai visto, che dal punto di vista organizzativo è una cosa fantastica, le persone sono amichevoli, ti accolgono come se fossi già uno di loro già dal primo giorno. Sono Stefano Bisanzon, coordinatore del Centro Asteria. Il mio obiettivo è proprio quello di restituire quanto di bello la vita sportiva può dare. Ho frequentato qua la scuola materna, le elementari e le medie. La prima cosa che io penso su questo posto è che qua è una famiglia. Questa è una famiglia perché qua ognuno è accettato per quello che è, ognuno può sentirsi come vuole e ognuno qua è apprezzato. Questo è veramente la cosa che mi ha lasciato nel cuore, potrei descrivere questo posto con altre due semplici parole che sono semplicità e la seconda parola è generosità. Perché qua appunto quando sei accolto non sei accolto come un colloquio sul lavoro, ma qua sei veramente accolto come persona e ti preparano a crescere al meglio. Grazie. Grazie.